Ciao, sono Laura, ho 38 anni e sono originaria dell'isola d'Elba. Mi sono laureata nel 2008 in ingegneria aerospaziale all'Università di Pisa e circa 12 anni fa è cominciato il mio percorso in Leonardo. In questo momento sono program manager per un progetto che riguarda la realizzazione di uno strumento ottico per lo spazio, parliamo quindi di monitoraggio climatico e questo strumento si chiama 3MI. Una caratteristica importante e molto sfidante per quello che riguarda i progetti in ambito spazio è sicuramente la necessità di realizzare dei prodotti che siano altamente affidabili. Ciao, sono Niccolò, ho 33 anni e sono originario di Firenze. Ho frequentato l'Università degli Studi di Firenze, in particolare mi sono laureato in Fisica e Astrofisica. Lavoro in Leonardo da più di sei anni. Come IT manager responsabile di 3MI mi occupo in particolare di coordinare e dirigere le attività di integrazione, allineamento e test dello strumento. Le attività di assemblaggio e integrazione vengono svolte all'interno delle cosiddette camere pulite, ossia degli ambienti caratterizzati dalla presenza di aria particolarmente pura. Una parte fondamentale delle attività di allineamento e test vengono invece svolte all'interno delle cosiddette camere di termovuoto, le quali sono delle apparecchiature che vengono utilizzate per simulare le condizioni spaziali. La cosa che mi entusiasma maggiormente del mio lavoro è operare in un settore altamente specializzato e in particolare all'interno di un progetto come 3MI che si occupa dello studio del cambiamento climatico. La parte che mi entusiasma di più del mio lavoro è il fatto di poter contribuire con uno strumento altamente tecnologico al monitoraggio del cambiamento climatico e anche al progresso a tutto tondo. Leonardo è sicuramente l'azienda perfetta per chi ha voglia di mettersi in gioco e crescere, sia da un punto di vista professionale che personale. Per chi vuole fare la differenza e costruire dei sistemi innovativi che possano migliorare la vita delle persone.